75 persone identificate, 11 veicoli controllati ed un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti. A questo il bilancio dell'operazione di polizia giudiziaria contro la criminalità giovanile che ha toccato anche la provincia di Arezzo e che ha portato a 37 arresti e 51 denunce in tutta Italia con 800 operatori impegnati a livello nazionale sotto la regia del servizio centrale e operativo della polizia di stato in 30 province. 5 degli arrestati sono minorenni così come 17 dei 51 denunciati. Sono contestati a vario titolo i reati di ricettazione, possesso di armi e strumenti atti ad offendere e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Ad Arezzo i servizi sono stati coordinati dal dirigente della squadra mobile, il dottor Davide Comito con l'impiego non solo del personale dell'ufficio investigativo ma anche degli uomini del reparto Prevenzione e Crimine Toscana, della Polfer e del Comando della Polizia Municipale. Nel corso dell'operazione è stato anche accompagnato in questura un soggetto irregolare sul territorio nazionale ed è stata effettuata una perquisizione alla ricerca di armi ed esplosivi. Infine è scattato l'arresto in flagranza di una ragazza di 30 anni italiana per spaccio. È stata infatti trovata in possesso all'interno della propria abitazione di 300 grammi di cocaina pura in polvere, sostanza da taglio, materiale vario per il confezionamento, un bilancino professionale e una pressa idraulica utilizzata per il confezionamento dei panetti di cocaina da rimettere poi sul mercato degli stupefacenti generando guadagni per diverse migliaia di euro.